Dimmi papà, veloce. Bianca scusa, ti vorrei parlare un attimo. Tu che conosci tuo fratello? Andrea? Quello c'hai, Bianca, ti concentri per favore? Mi serve aiuto, riesci a capirci qualcosa con questa storia tu? Adesso papà? No, perché mi sono scaricata a Gesù di Nazareth e mi sta prendendo tantissimo. Il film di Zeffi Neri? Ah, l'hai visto? Non mi dire il finale. Ma perché lo stai guardando? No, perché Andrea mi aveva prestato i Vangeli, ma mi sono allenata subito. Scusa, lo stanno portando da Pilato. Vieni, Dio voraccio.